Ben trovati amici a casa Rinaldi, l'appuntamento con la musica italiana oggi ci porta in una terra meravigliosa a conoscere una nuova promessa della musica italiana. È una figata, guardate dietro di me c'è già la cover del brano che andiamo a presentare. Lei si chiama Francesca Spennato, Spenni, ma in arte, Steira. Buon pomeriggio a tutti, ciao! Che bello conoscerti, sei una gioia, veramente, già abbiamo chiacchierato un po' in privato e quindi vi garantisco che è la forza della natura, Francesca. Allora, Steira, in arte Steira, Francesca ci presenta Sopra la città. Allora, andiamo in ordine. Sei una bellissima giovane ragazza che si chiama Francesca Spennato, Spenni, perché Steira? Che ci azzecca? Ma, praticamente, volevo trovare un nome d'arte, no? Perché, ovviamente, sei un artista, bla bla. Prima mi chiamavo Spenni perché Spenni è il diminutivo di Francesca Spennato, quindi Spennato, Spenni. Però mi sembrava un po' tipo, sai, Penny Market, quelle cose così molto di franchise. E mi ho detto, no, no, trovo un nome serio. E allora ho cercato, no, a dire, no, vediamo come posso fare. Un giorno ho detto, ma siccome io sono un casino, sono proprio confusa, no, di natura nella vita, ho messo il nome e il cognome su un foglio, ho preso delle lettere del nome e del cognome e li ho fuse insieme. Ed è uscito Steira. Suonava bene, mi piaceva, ho detto, ma l'ho trovata, a posto, abbiamo fatto. Manca la Y, però, la Y. Di Spenni, no? Doveva riprendere Spenni pure, perché Spenni con la Y. Quindi il merchandising e poi alla fine ce l'hai messo. Ma che bello poi entrare nelle vostre camerette, perché 25 anni, è giovanissima la Francesca che abbiamo qua da conoscere. Quindi nella sua cameretta ci sta ospitando per presentare una canzone che è davvero straordinaria, ragazzi. Intanto vi dico che ha partecipato da poco all'audition di X Factor. E quindi adesso, ce ne parli subito, com'è andata? Che cosa hai combinato? È andata benissimo. Dai. Mamma mia, c'è stata un'emozione pazzesca. Quando abbiamo fatto le prove, no? Sai, il soundcheck tutto prima. Quando sei là, non c'è? Se ti sembra tutto così bello, così... Cioè, poi vai da una parte all'altra, quindi non è che realizzi più di tanto. Allora, quando mi hanno detto che dovevo fare il soundcheck, mi toccava a me. Quando sono studiata sul palco, non c'era ancora il pubblico durante le prove. E quindi ho detto, wow, mi piace, è questo che voglio fare. E quindi mi sono caricata più di quanto già non lo sono di natura. E niente, poi quando ho fatto, vabbè, quando ho cantato che mi sono esibita, che abbiamo fatto proprio il provino, che c'erano i giudici di fronte, era un mix di emozioni tipo, sto morendo, no? Sto volando, no? Mi piace, no? E tutto così. Quindi non capivo niente. E quindi stavo meglio, perché sparavo tutto quello che mi girava in testa. Allora mi facevano le domande, io rispondevo molto come sono io. Nel senso, io non sono una persona che pensa molto prima di rispondere. Quello che penso in quel momento ti dico, perché è quello che sono io realmente. Quindi ho portato sul palco ciò che sono io. Ed è stato molto apprezzato questo, perché anche quando, per esempio, facevo le interviste lì, gli autori apprezzavano questo mio modo di essere. Meno male. E niente, poi mi hanno dato tre sì, quando ho finito di cantare ho avuto una segna nuova escena dove si è alzato tutto il pubblico lì, ho detto wow, mi sto venendo quasi da piangere. Cos'hai cantato? Ho cantato Enga No, I Get Life, una canzone di Nina Simone. Wow, caspita. Sì, e quindi poi mi hanno dato sì, Darjen, Morgan e Ambra. Invece Fedez mi ha detto di no, perché non era molto convinto, però ci sta. Comunque sono passata ai bootcamp, che andranno tra l'altro in onda stasera su TV8, la puntata in cui sto io. Quindi questa sera su TV8 alle 21.30, per chi volesse seguirmi, c'è i bootcamp. E niente, quindi così, è stata un'esperienza fantastica, che proprio non scorderò mai nella vita, secondo me. Beh, ma ci credo, guarda, ci credo assolutamente. Allora, Francesca, Spennato Spenni in arte stera ci presenta Sopra la città. È una canzone veramente che prende, bella, bella, bella. Io leggo che dice praticamente che la canzone parla di un amore idilliaco, che ti devasta quando ti innamori follemente, quasi da non avere neanche più l'appetito, no? In effetti uno si sente in forma, perché non hai fame, non mangi e quindi... Magicamente dimagrisci, sai, diventi wow! Tu non c'hai più problemi. Tu sei già wow! No, però prima quando ho vissuto questa sensazione, ero dimagrita, mi sentivo proprio super in linea in quel periodo. Poi dopo è passato, cioè nel senso, quella fase proprio di innamoramento, no? Ecco. Quindi è un'autobiografica questa canzone, Francesca? Cosa? Scusa, non ho capito. È autobiografica questa canzone? No, non è autobiografica. Parla, cioè, l'idea è quella, però comunque parla di l'amore in generale, ecco. Ovviamente tutti abbiamo provato un amore, un innamoramento, una sensazione di farfalle dello stomaco, di senso di chiusura dello stomaco, perché è talmente tanto bella quella persona che ti prende che dici, non ho neanche più fame, cioè nel senso, parla... La voce, come hai raccontato la voce, poi a qualsiasi età, perché finché ci si innamora, si è vivi, ci si innamora, ed è giusto anche vivere l'amore perché è quel sentimento che ti dà quella scarica di adrenalina che caspita quanto serve. Nel brano praticamente tu parli come l'opera rock di Bohemia Rhapsody, poi parli, citi la ballerina di Degas, ecco. E tu sei una ballerina, perché vediamo lì dietro di te che, dietro di me, che c'è la cover del brano e sei tu quella, perché sei una ginnasta, ecco. Sì, io sono un'ex ginnasta di ginnastica artistica, ho fatto le nazionali, gareggiavo nella serie C e adesso insegno. Sono un'istruttrice di ginnastica artistica in palestra, quindi c'ho le mie bimbe, però ovviamente mi tengo in forma, infatti quella foto è di giugno quando ho fatto il saggio, che ho fatto una parte insieme con loro e quindi mi hanno immortalata in questo momento in cui stavo facendo un flick ed ero proprio al volo e ho detto wow, questa foto la posso usare per metterla nella copertina come se stessi volando sulla città e quindi questa è l'idea. Infatti nella canzone dici fammi volare sopra la città, perché poi quando sei innamorato ti sembra di volare, sei leggerissimo come una piume, quindi puoi fare tutti i voli pindarici, o meno che ti pare. Certo, poi sopra la città è l'opera di Chagall, quindi sopra la città in un quadro di Chagall, quella parte del sottofondo diciamo, a parte me, riprendo proprio il quadro di Chagall dove nell'originale ci sono le due persone abbracciate in orizzontale che volano, tipo che stessero volando sulla città. Quindi ho tolto il dolore perché sto volando io. straordinario, sta ragazza veramente straordinaria. Francesca Spennato in Arte Steira, nata a Melissano, siamo in provincia di Lecce, quindi meraviglioso Salento, una terra straordinaria, è ancora mare, è ancora tempo di andare, eccola. Fa caldissimo, guarda, vado a cannottiera. Che belle spalle. Ci sono 35 gradi, fa caldissimo, proprio da mare, veramente. Hai due spalle da, veramente, d'atleta splendide, belle, 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 mi piacciono. Beh, praticamente campionessa di ginnastica artistica, ha sempre fatto parte della tua vita la musica. Come arrivi a fare musica, Franci? Ma lo sai che in realtà non è una cosa di famiglia, quindi dice ereditaria, no? Comunque l'ho sentita dalla piccola, no? Praticamente io, quando sono nata, la mamma mi racconta sempre che le ostetriche in ospedale si lamentavano di me ogni mattina quando mi portavano da lei perché piangevo tutta la notte e non perdevo mai, cioè non mi si abbassava mai la voce, non perdevo mai il fiato, quindi ero capace di tenere il pianto costante dalle 11 di sera quando mi portavano via da mia mamma, alle 7 di mattina quando mi riportavano e le ostetriche le dicevano a mia mamma, mi sbattevano su di lei e dicevano, no, questa da grande farà la cantante perché in tanti anni di carriera che ho fatto l'ostetrica non ho mai trovato un bambino che piange così disperato senza perdere mai la voce. Erano proprio delle persone che ne sapevano, perché poi da piccola ho dei video in cui avevo due anni, cantavo per casa con un registratore di mia sorella che aveva un microfono e cantavo Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bells. E canti anche a scuola? E poi ho iniziato così con mia mamma, quando stavo a mia mamma in un negozio, ci vedevamo lo zecchino d'oro, io cantavo con lo stereo e lei mi fa, senti ma perché non ci prepariamo una canzincina, no? Perché io le sapevo tutte e fai provino allo zecchino d'oro. E quindi così a 5 anni feci il mio primo provino da autodidatta preparata con mia mamma che è praticamente una ragioniera, non capisce niente di musica. E ho fatto dei provini. Sono andata comunque avanti, non sono arrivata in tv, però comunque è un buon risultato quello che ho ottenuto perché ne ho passati parecchi. E poi da lì io comunque andavo in giro al coro della chiesa, alle feste che c'erano, dove c'era da cantare, io mi piaceva, quindi ci andavo. E poi trovavo, magari ho trovato degli insegnanti e mi dicevano perché non studi, perché hai una qualità vocale comunque che è un talento, andrebbe curata, no? Cioè fatti seguire da qualcuno. E poi diciamo che all'età di 12 anni ho iniziato a studiare canto e poi ho proseguito perché ho fatto liceo musicale, poi ho fatto il conservatorio, mi sono laureata all'altriennio a Parma, mi sono laureata al biegno in Calabria. L'anno scorso ho preso un master di specializzazione sulla voce, sugli equilibri stabili al Brancaccia a Roma. Quindi sono un'insegnante a tutti gli effetti di canto e comunque continuo sempre a studiare, andare in giro a fare stage, lezioni con persone comunque, cioè, in un certo livello. Nonostante che comunque io canto, faccio le serate, tutto quanto, però non si finisce mai di imparare, certo. Ecco, come che si dice, non le manca il pepe da quella parte là. Fantastica veramente la nostra steira, che trovate in rotazione radiofonica in tutti gli store digitali e ovviamente ricordatevi Spotify. La sua musica sopra la città è un brano che fa parte della nostra colonna sonora, io lo dico sempre ma mi stancherò di dirlo, già tu fai parte della mia colonna sonora. Anzi, sai cosa ti dico? Allora, io quando i discografici mi danno i vostri nomi, le vostre canzoni, io subito ascolto e poi vi inserisco nelle mie playlist di Spotify, perché le faccio, le aggiorno sempre di nuove. E l'altro giorno stavo ascoltando la mia playlist del momento e arrivi tu, che non ti avevo ancora memorizzato, no? Dico ma guarda questa canzone, ma quanto è bella. E sono andata a guardare chi era, perché sembri una veramente arrivata come cantante, è una voce piena, bella. E il ritmo di questo brano ti resta in testa, perché è un ritornello veramente ruffiano, perché quando dici fammi volare, fammi volare sopra, cioè lì è veramente un ritmo davvero ruffiano. E quindi hai tutte le carte in regola per creare la colonna sonora del momento per chiunque abbia voglia di ascoltare la musica di questi giovani, in questo caso Francesca Spennato, Spenn, in arte steira, sopra la città. E quindi dove ti troverò? Adesso sei nella tua cameretta, no? Fra qualche anno, qualche studio, dove sarai? Non ti troverò sicuramente più dentro quella cameretta colorata. Per essere in tour. Ecco, bene. Quello è il mio obiettivo. Poi ovviamente si sa, tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, ma spero che questo mare sia molto piccolo, cioè un canale. Navigabile. Esatto, perché soprattutto riesco a navigarlo molto velocemente e arrivare all'obiettivo di Rita. Non lo so, speriamo, quello è il mio sogno, diciamo. Un artista che tu ammiri tantissimo e segui. Io lo sai, io vorrei fare quello che fa lei sul palco, con il corpo di ballo, a ballare pure io con l'oro, con le fiamme, che riescono a fare il casino, cioè proprio uno spettacolo, uno show. Non si è capito il nome? Beyoncé. Ah, Beyoncé, perché non si è capito. Beh, ci credo, caspita, chapeau. Ce la farai. Allora, ragazzi, in tutti gli store digitali, su Spotify, Rotazione Radiofonica, su YouTube e iscrivetevi, iscrivetevi al canale di Steira e commentate, ascoltate e commentate sopra la città, come faccio io su YouTube, perché è una cosa una figata, no? Tu metti il loop e ti ascolti la canzone, che così impari ad ascoltarla, ad entrare nel mood e ascoltare bene le emozioni, perché poi è soltanto così che una canzone la capisci davvero fino in fondo. Francesca, è stato un piacere conoscerti, veramente. Piacere mio. Tesoro. Tanti baci e incrociamo le dita. Io sono qua. Sì, tutte le dita, tutte, incrociamole tutte. È straordinaria, ragazzi. È straordinaria, Francesca, veramente. Ci ricorderemo di lei. Assolutamente sì. Giovanissima, hai tutta la vita davanti. Di grazie a tua mamma che è così temeraria, anche se fa la ragioniera, però ha capito quello che tu puoi fare, quindi dritta, furba tua mamma. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a te. Ciao, grazie. Ciao a tutti.